I coglioni, comunque. Vero. Non vuole far vedere le cose. Ma è un filmato dove sei su un aereo filmo. Non vi facciamo vedere il gioco, tengo nero tutto il tempo. Tutto proprio. Tengo un aereo. Con il pelo. Fa caricando a me. Mi sono caduto. Io comunque voglio un suricato. È vero anch'io. Ne voglio meno cinque, però. Ne voglio uno. Il gioco è, siamo su un aereo. E non c'è bambina, però. Non c'è bambina, cantami una volta. C'è anche a me non c'è. Non c'è niente, di chi è il figlio qui? È mio, mio, figlio, mio. Di chi è il figlio? Marco, è un lost. È un lost. Gli oggetti vediamo tutti cose diverse o è più in comune? Non so. Che posto sei Marco? Aia! Che botta, madato! Mario, abbiamo sbattuto! Aia! Ma quello è tutto storto. Ma scusi, devo chiudere la tavolita. Chiudi la tavolita, però. Perché prendi i bicchieri? Chiudi la tavolita, chiudi. Ehm, ma fatte roppo. Festo è Sharpedo. Ehm, ma fatte roppo. Ehm, ma fatte roppo. Siamo lost. Sta partendo, sta partendo. Ma mamma mia ha già caricato. Vabbè, perché sono all'oppia. Ah, io sto precipitando già. E tu sei precipitato. Io sono già nell'aereo, vi aspetto. Ciao, stai, grazie a me. Ah, facciamo così. Lo diciamo adesso. Le sub le ringraziamo alla fine, dai. Così non stiamo qua. Ma ha preso il mio... Non era mio figlio quello. Era davanti. Già, con le sabbe le ringraziamo. Non era mio figlio. Non ne frega, scusa. Chiudiamo magari 5 minutini prima. Sì, il gioco lo chiudiamo 5 minuti prima. Ringraziamo alla fine. Ho raccolto la lista dei partiglieri. Ma mi siete crollati davanti. Mi scusi, devo alzarmi. Ma c'è il tavolita in mezzo. Chi sono questi occhiali? Ma chi è dentro il mio sedito? Mi sa che sono sovrapposto. Buongiorno, scusa. Ma siamo tutti. Ma io ero una kamura. Siamo tutti dallo stesso sedito. Siamo io ero una kamura. Ma mi permetti però. Salve, salve. Devo prendere l'ascia qua. Ma cosa ti guardi le mani, leader? Eh, non lo so perché. Fammi prendere. Ma mi spostate? Io rubo tutto. Rubo tutto. Dove mi lascia? Ma ormai tutto qua. All'autobus, va bene. Ah, cibo però me lo prendo. Efficiente. Non lo vuoi tutto quanto è, non lo rubare. Adesso inizia a fare ppp, eh. Subito. Oh. Adesso ciulo tutto, guarda qui. Ah, ma mi romperai subito la linea. Ok, le jobie sono, non sono per tutti. Tutti possono prendere. Esatto, tutti hanno tutto. Eh, ma ora, ah, cibo. Ora rompi i palle, non mi ha fatto raccogliare la roba. E lo sapevo io, non sapevo. Lei, ma ti... Ero deficiente. E' il fatto che non è pariare al gioco, è successo. Bussa, chi sarà mai? Andiamo a vederle. No. Aspetti Levi. No, Morelli. Crolla, crolla. No, Morelli, è la fine. Sta cadendo. Sta cadendo. E' al problema di PUBG, questo gioco. Cosa è? E' del mouse che va dall'altra parte. Ma sarei tu che hai i problemi, non è che il problema è tipo solo te, calma. Beh, io non ho trovato PUBG ieri, ieri, la settimana fa, ieri, ciò che andavamo tutti quanti tranquillamente. Vabbè, se ti puoi spostare da qui, es, perché devo passare. No, hai bisogno di un po' di merda. Eh, se devi spostare te, li sposto anch'io, però. E gli sposti te, ieri. Se è stato lì mezz'ora, ho preso le robe che erano lì, intanto. E niente. Rompo la valigia verde, Joel. Posso mettere... Come si chiama, rosa? Ma le mangiavo subito, questo. Le stavo raccogliendo. Schermo intero off, forse, vediamo se... Allora, quindi... Allora, cos'è The Forest, Morelli? Per chi non lo squiquattro, che non lo sanno. Il ragazzo del solito non l'ho mai giocato. Allora, ve lo dico io. Siamo precipitati su quest'isola. Esatto. In quest'isola ci sono dei misteri. Esatto. Noi li dobbiamo risolvere. Esatto. E il nostro figlio dov'è? E' sparito. E dove sarà? E' il nostro figlio. E' il nostro figlio. Perché è mio. E' mio, è mio. E' che me ne frega mai, scusa. E' il figlio di Mark. E' no, voi, amici miei, mi aiutate a trovarlo. Ma che me ne frega, scusa. Cade l'albero, cade l'albero, cade l'albero. Come cade l'albero? Sei scemo, Diego, così? Allora, tutto tutto. Ma come si apre l'inventario? Con la... No, I. Esk? I. E' scritto sotto. Nove getti. E' la mia, la mia, la mia. E' la mia, la mia, la mia. E' la mia, la mia, la mia. E' la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia. E' la mia, la mia, la mia, la mia, la mia, la mia. Faccio la moto. Allora, ho una foto di Timmy, Marco. Ho sbagliato, ho bevuto l'alcolico. Fammi vedere. Dove sei? Morelli, fammi... Ah, me la vuoi dimostrare così? Paggia. E' tuo figlio questo? Morelli! Si, è venuto un po' male, effettivamente. Guarda, guarda. La vedi questa? Eh si. Cos'è, il nostro figlio? Ma non prendi in giro mio figlio. No, è figlio di Marco. Mi spiace. Mi spiace. Mi spiace. Chiesa, come sei forte. Eh, sono fortissimo. Ma, come è mio figlio? Mio figlio è uguale al tuo. Guarda. Cos'è che hai in il culo, Esprit? Morelli, è uguale al tuo mio figlio. Ma non è tuo figlio, è mio figlio. Ma non è mio figlio. È il figlio di Mark. Ah, poi ci sono la foto dei figli di Mark, scusa. Ah, pervertiti. Ma pervertiti, cosa fate con la foto di mio figlio? Che adesso hai, tu me l'hai data. Ma chi te l'ha data? Che questo al subito. Guarda, fammi fare, fammi fare un po' di indumenti qua, un po' di roba per terra. Ho preso un tronco, ho sbagliato. Non so se ci sono stati aggiornamenti da ora andando a questa parte. Credo di no, perché il gioco era figlio di tutto. Ammi ravanare il culo qua. Allora, Marco, qui c'è... C'è uno scogliattolo. Dove costruiamo? Allora, cosa dobbiamo fare? Faccio il bagno. Facciamo una base, è un survival. Secondo, abbiamo una cosa. Una base, che fa? Abbiamo? No, abbiamo? Ecco qua, la lista dei passeggeri abbiamo. Facciamo una, sì. Abbiamo la lista dei passeggeri dell'aereo. Ma io voglio fare una base, Esprit, prima, va bene? Ma tu chi sei il passeggero? Come ti chiami, Marco? Ma facciamo già la base grande. Io sono il capitano. Ti chiami... Sono schettino, io. Un cervo! Ma ammazziamo? Marco, corri! Ci sono due cinesi, i gasci. Ci sono due cinesi. Siamo tutti cinesi, sicuro. Perché? Dov'andate, dove vanno questi cinesi? Ma aspetta. Ma sono cinese? Siamo tutti cinesi. Io vado da solo. Siete tutti cinesi, siamo tutti cinesi. No, qui c'è un buco incredibile, scusa. Marco, sei cinese, tu sei un classico boscaiolo. No, è un cratere gigante, che è una grotta. Che cazzo? Non so come viene scendere, sai? Ma veramente un cratere? E non so come scendere, perché ho trova essere... Osschio. Ehm... Come? Allora, vabbè, pensiamoci dopo. Facciamo una piccola base adesso. Nuova voce aggiunta alla lista delle cose da fare. Dov'è la lista delle cose da fare? Sui. Come si apre? Non c'è il tasto. Allora, sicuramente è B per il manuale. Lista dei passeggeri. B per il manuale, ok. E qua c'era una lista delle cose da fare. Chiaramente io voglio farmi una casetta, Esprit. Subì. E' dove c'è il tic, nella seconda pagina. Trova Timmy. Stabilisci il campo base. Facciamo una casa galleggiante. Trova uno stato per Adolina. Cos'è Adolina? Adolina credo sia quella. E' questa Adolina? Eh, mi sa di sì. Chiami Dolina, ti chiami? È una Dolina. Chiediglielo. Chiediglielo, Esprit. Ok Google, cos'è una Dolina? Dolina. Capità di origine carsica. Diventa direttamente all'erosione della... di rocce calcarie da parte delle acque meteoriche filtranti attraverso penditure o accedimento delle stesse in seguito a dissoluzione di calcari da parte di acque circolanti nel sottosuolo. Quanto tempo per dire cos'è una Dolina? Direi comunque che è questa. Comunque è una Dolina. Io ho ucciso un cerbiatto, va bene? Andiamo a facciare una casetta in un posto recente. Aspettate che vi faccio il tramezzino per portare la legna. Ma che per che devi farlo all'altro, mezzino? Scusi. Raccogli bastoncini 14, ci dice. Cosa? Dici di raccogliere 14. Eh, perché manca messo il coso di legna. Eh, no, facciamolo, facciamo. Ma non facciamo la casa qua, che è un posto di merda. Ma non è la casa, è per portare la legna. Te lo porti dietro. È lo slettino, sicuro. È lo slettino, non è lo slettino. È lo slettino. È lo slettino salmanico. Guardate, io ho una testa di cervo. Come? Ma dai! Fate spolti le mani poi. Amici, ho bevuto. Sarà dannoso? Manca un... Sì, è dannoso. Non bevete, amici, dall'acqua. Eh, magari. Non è che mi è bevuto da merda. Ok, già pronta. Ok, pronta. Pronta? Vai, raccogliamo la legna. Ok, legna. Abbiamo un posto di cento di lama. C'è già per terra alcuna, eh? Che imbarazzo. Allora, quindi dobbiamo trovare della legna adesso, dicevamo. Beh, direi che non... Ho preso i postoncini da cercare. Ah, io ho preso i postoncini, comunque. Questi sono importantissimi. Aiuto, da che potenza? Sì, però se stai da quella parte, Mark, non cadrà mai. Tranquillo, che la fisica... Adesso arrivano, non ho più stamina. Cade, cade. Cade. Adesso facciamo i forzuti. Non l'ho fatto, ve li hai rubati tutti? Fatemi arrivare. Ah, qua ho due pezzi, era. Morelli, c'è da mano, aspetta. Vai, Morelli, vai! Vai, Morelli! Vai, Morelli! Eh, beh? Cosa è? E lo tagliato tutto intorno. Eccolo. In testa a me? In testa a me! E invece no. Vedi come schiuglio? Direttamente dentro, vedi? Andiamo a farci una casa in un posto docente. Amici, vi porto... Andiamo, dai, vi porto la legge. C'è una... Ne finge qua. L'imbarazzo. Ne finge nel mercato? Morelli, perché ti sei fatto la cacca addosso? Ho preso in testo? Che dici? Cosa hai fatto? Ho preso delle cacca umane, penso. Che dici? Amici, dove andiamo? Fammi andare in retromarcia. Mi serve dell'acqua pulita da bere. Andiamo a cercare dove mettere. Morelli! Eh? Questo è il tuo parente? E' il dici? Tasso, quello... No, è un teschio. Fatemi vedere. No, è un mio parente. È un teschio. No, no, è mio, è mio. Ah, gli amo, dai! Guarda, aspetta. Dai, decidiamo dove... Dai, andiamo a vedere. Forza! Vai, Marco! Aspetta. Fatemi strada. Fammi salire su questa cosa. Sali, dai. No. Aspetta, sei riuscito. Vai. Eh, no. Devo cambiare comunque. Fai un piccolo tapiru là, bravo. Io colgo i sassi che poi li tiriamo. Ma c'è un iguana. C'è un villaggio, ma a destra. Ma c'è un iguana, c'è un iguana. Andiamo lì, andiamo nel villaggio. Ho ucciso l'iguana. Piano, eh. Piano! Aspetta che ci sono i sassi. Tranquillo, Mauro. Un' iguana! Troia! Uccidete l'iguain. È rancata. Niente. Vado a Iguain, Morelli. Aspetta. Allora qua, iniziamo stanotte almeno. Vediamo se sono dei passeggeri morti. Allora, quindi bisogna indagare, mi dicevi. Qui c'è un cadavere. C'è un cadavere. Non posso indagare, però. Sono qui, ci sono delle teste, effettivamente, su questo pallo. Quindi dice che c'è stato già qualcuno. Qui c'è un braccio. C'è un piede, ragazzi, c'è un piede. Lo prendo a calci. Bellissimo. Quindi il clan del piede, diciamo. Ah, sì, sì. Ma è arrivato un uccello. Ci sono delle tende qua. E gli altri si vede per angolosi anche loro. Aspetta, fammi ravanare nelle tende. Dove si entra? Qua. Ah, posso tornare a salvare. Oh, l'iguana! L'iguana, l'iguana, aspetta. A me è andata mancata. Ma quante tende, scusa? Chi non si tende qua? Ha fatto un... Ma non l'avete lasciato indietro il regno, basta. Il regno, il legno. Il regno. Un riparti. Cosa non fate qui? Ah, qua si può salvare dentro le tende, vero? Ho appena detto, Marco. Ascolta. Ma chi ti ascolta a te? L'avete preso il regno? Il? Cosa ho sentito? Non so cosa hai sentito, Dieter. Era l'iguana o era qualcosa d'altro? Non lo so, per sicurezza va tanto bene. Non lo so, cosa fai? Ma questo è un cretino. Ma dove stiamo andando? È un cretino. Abbiamo esplorato bene le valigie, perché secondo me no, eh. Le valigie le ho aperte tutte. Anch'io le ho aperte. Ma io le ho dell'altra, comunque. Eh, gente davanti a noi. Come gente? Là, davanti a noi, ho visto uno muoversi. Mi lascio, va. Qua c'è una tenda dietro questa roccia. Adesso quando mi ricarico, adesso mi sono posto anch'io. Amici, la facciamo in acqua, per favore. Ma che schifo. Ma perché siamo protetti, all'emano. Ehi, qui c'è l'entrata di una grotta, qui. Come lì? Ah, qua. Siamo protetti, almeno, amici. Dai, c'è pure l'entrata della grotta, facciamola in acqua. Ma che cazzo vuol dire in acqua? Ma che palle, no? Non ci sono. No, non ci sono. Ma no, abbiamo... È facile, dai. Ucciso un uccellino. In realtà qui possiamo anche costruirla, non in acqua, ma qua possiamo costruirla. Esatto. Qua, qua sopra, qua. Oh, sempre a rompere le palle. Ma fai un posto vicino agli alberi, però, eh. Eh, ma qui dove cazzo siamo? È avvicinato nel rischioso, non è che escono loro? Non credo. Che scandala grotto, sai? Come si fa la casa gigante? No, volevo fare, facciamola sull'albero la casa più bella. Ma mi te ho feso, qua. E tu, Espre, fai tu. Eh, dovete dirmi poi dove, perché sto postando in merda. Ma tu devi decidere... A me piace già qua e io la farei qua. Anche lei, vede qua. All'in fondo c'è qualcosa, poi. C'è tutto, c'è la grotta, c'abbiamo gli alberi, c'abbiamo le tende. L'acqua. Eh, allora, la facciamo sull'albero la casa, sull'acqua o la c'è normale? Eh, la terra è normale. Ah, io l'arrivo in acqua solo per difesa, non per albero. E' utile perché non arrivano loro, in teoria. Se non ci sono da giù intorno. Morelli arrivano! Morelli arrivano! Sono qua dietro! Spacchiamogli la faccia, spacchiamogli. Gollum, gollum! Oh, questo ho visto! Oh, tu! Che schifoso! Devi stare! Devi stare! Tornare sotto, torna sotto, torna, 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 torna. Indigeno! Altri due? Pettino, pezzento. Lo maciullo, lo maciullo gli spacchiamo. Ma vieni, guarda, la prima. Oh, questo! Velocissimo! Vieni qui, gollum delle palle. Ma non bastone, oh! E' violento! Fanno proprio i versi di gollum, fanno. Io rubo il bastone. Ma ci sono i fatti, fanno la pietà. Lo rubo, lo rubo! Oh, ti spaga la faccia! Deficente! Ha rubato il mio spiro nudo! Lo vedi, questo è il tuo amico, merda! Ha finito. Ho rubato. Sono ricoperto di santo. Relly, guarda la cosa. Guarda pulirmi. Ok, sono pulito. Eh! 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 Pulitevi anche voi! E' una tesima sul tre questo. Eh! Ecco, puoi te abbraccio! Vado in acqua così, sì, mi pulisco? Che figo! Rimane, facciamo una case in acqua da stavolta. Mi ha preso di meno! Se lo butto per terra. Starto, voglio fare la case in acqua, quindi dai. Facciamo una case in acqua. Ma si può? Faccio io. Allora, aspetta. Apro un manuale di sopravvivenza. Rifugi. Non vedo, mi servono gli occhiali. Io vedo, ho la capanna. Aspetta, vado avanti, vado avanti. Eh, ce l'ho vista io. C'è un gazebo. Allora, c'è sempre stata comunque. Ecco, la casa sull'albero. Facciamo anche il molo. C'è la casa sull'albero. La gru. What? Ostia, la gru. C'è un pari. Il divano, dei teschi. Marco, non trovo più la casa sull'albero. E intanto faccio il molo. Non fare il molo, ecco la casa. Casa galleggiante. Molo lo faccio per partire. C'è la zattera anche a fare. C'è la zattera, sì, sì, ma c'è un po' di roba. Ok, casa galleggiante. Eh, quanto. Ma qui fai il molo, Marco. Facciamo un po' in centro la faccio. No, la facciamo in centro. Il molo era giusto per avere qualcosa lì davanti. Aspetta, Marco, sto andando io, eh. Sai che se hanno notato i cuglioni di portare la legna? Eh, quello è il problema. Ma non vi preoccupate, ragazzi, è tutto gameplay. Mi sei buggata l'animazione del taglio, ok. Marco, come la faccio? Qua, dove sono io? Va bene lì, Esprit. Va bene qua. E non andare troppo in là. Non andare troppo in là, che poi è un casino, veramente. Allora, giriamola così. State attenti se arrivano gli uomini. Così, dai. Ti piace qua, Marco? Dove sei? Mi piace molto, Esprit. Sono delle corde, però. Ma si muove? Ah, si muove pure! Eh, infatti, si muove. Come il cacchio? Si che si muove, ragazzi. E che ne sapevo io? Io pensavo sia una casa ferma. Ma no, cosa stai facendo? Perché ti... Ma no, no, c'ho il gollum, dove? No, no, amici. E niente. Per capire, noi stavo qua. Marco? Non c'ho un gollum. Ci sono, ci sono, vai a vedere. Ma non li cadono in acqua. Non li puoi andare a mettere. Che figo. Dei vecchi dei cantiere, voi due. Ah, serve la zattera, mi sa, eh. Dei vecchi dei cantiere. Ci sono due uguali, poi. Deficienti. Amici, dobbiamo trasportarlo. Ah, cioè, faccio il mondo. Aspetta, aspetta. Ah, si rompessimo quella, spostiamo, Marco? Pussa via. Grazie mille. Grazie, guarda Twitch. C'è una cosa intelligente, scusa. Pussa via, mai più. Posso distruggerla. Paura! Ha uno ai capelli, è pelato che i capelli. Poverino. Ehi, ehi. Come è pelato che i capelli? Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ok, uno è morto? Eh, così va meglio. Ah, non è morto. Sto in picozzo. Adesso è morto. Un dente, glielo culo. Aiuto! Che paura! Ma quella è luda! Vabbè, Sper, di casa ti scandalizza. Ma sono sporco di sangue. Allora, ci abbiamo un lago. Allora, facciamo la nostra casa per bene adesso, Marco. Amici, ho perso vita. Ma in acqua, no, ma vedi, ci vogliamo un quarto d'ora per portarli. Ma aspetta, facciamo l'oggettino. Basta farlo... Non c'è l'oggettino di travasarli. Fate un fuoco, fate un fuoco. Faccio io il fuoco. Fai sto molo, poi Marco. Non stai freddo sto molo, non stai finendo. Eh no, mi devo curare, sto in fin di vita. E mi te... Il freddo è alzato, bisogna saltarci sopra. Eh, ma c'ha fatto Marco, l'ha fatto. Cos'è, voglio, faccia bene. Io sono massimo esperto. È vero, se non c'è un gioco per fare l'edito come me, Marco. È vero. Non ho le foglie per fare il fuoco. Ah, ti voglio... Eh, le tette ti spugli. Il mole è proprio. Amici, ma io mi sono esplorato bene le valigie, perché ho pochissime... Pochissimi oggetti di cura. Probabile. E invece l'abbiamo fatto. Cade! Io faccio cibo. Andrò all'accendere adesso. Ok. Prendi tutto quanto, prendi. È che dovrei cuocere la carne, io anche. Eh, anche io adesso lo cuocciamo quando c'è il falò, ad esempio. No carne. E non abbiamo molto cibo, effettivamente. Allora, a caccia. Io ho ucciso un uccello. Ma ho un uccellino sulla mano. È uccidito. Eh, vabbè, lì è... Come capitare, dipende quanto si è coloso poi all'attività. Che cacchia. Allora, fammi prendere... Fammi tagliare un albero. Manca delle cose. Ma amici, io sto morendo. Come stai morendo? E io non ho... Mi dici... Aspetta, mangio? Dici che mangiare va bene. Aspetta, fai a fare un falò intanto, che amoreglie non è buono. Eh, c'è il falò. Ma l'ho già fatto, capito. È il falò, è spento? È davanti il muro. Eh, beh, perché adesso non serve. È spento, sì, ecco qua. E insieme. Amici, dai, dobbiamo fare una piccola base. Aspetta, fammi basare a me, fammi basare. Poi ci sono due tronchi. Ho solo due barrette come cibo. È la fine. Eh, dobbiamo farcelo noi. E lo sasso? Ah, munizio di fionda. Io sono un sacro, quindi o la cuociamo o muoio. Eh, magari lo farò. Sì, adesso stavo raccogliendo il legno. Le corde? Ma che hai spiegato? Mi hai fatto fare la cacca addosso? Eh, lo so. Ma non so proprio dove l'ho lanciato. Non so proprio di te. Guardate. Sì, li sento. Ma non si accende il fuoco. Ora gli accende il fuoco, non si accende. Aspetta che arrivano i mostri. I bastardi. Oh, ma quello è un po' natale, cos'è? Ha sbagliato il falore. Ma te sei un imbecilo, allora. Ha sbagliato il tasto. Ma questo qui ha rotto il falore. Mi sono caduti tutti i mani. Ha rotto in vacca, ci ha mandato. Ma ci pensi di farlo bene, farò. Ha sbagliato il tasto. Il fuoco grande o piccolo? Ci sono altri legni qua. Li prendo. Ha sbagliato. Io ho fatto il falò, quello più grande che c'è. Non è vero, hai fatto quello più piccolo. Non vedo più niente, io stavo togliendo la legna. No, quello con i sassi ho fatto. E' più grande, più grande là con i tronchi. Amici, portatele, portatele a legna. Cade, cade. E non c'abbiamo i sassi. Sì, io sto arrivando. Amici, sto facendo la base della zattera qui. Come si accende, poi? Scudiccio ci accende di manano. Ma dobbiamo passare la notte. Eh, dormiamo dentro qua. In caso. Ma io ci rimane, ma non accendo il fuoco. Come è possibile? Ma da me risulta... Ah, no. Allora, fammi vedere. Eh, anche il tuo faccia così prima, eh. Come? Ma ho perso l'ito. Ma porca. E quindi? E le foglie le ho io, eh. Amici, io non vedo più una... Come si accende questo fuoco? Mi si fico il Q? Per culo. Questo è tutto vicino all'acqua. Aspettate, faccio io, amici. Ma che è intelligente. Scusami, spavivenza. Tutti richiesti. Però non mi dici come funziona il fuoco, butto stronzo. Accendi un fuoco. Non scritto come funziona. Ah, c'è anche scritto cos'è, 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 da mangiare. Aspetta, perché... Aspetta, perché... Dicono che c'è l'acqua. Le hai messo sull'acqua? Amici, è partito via il... Vabbè, vado in giro a prendere roba, io vado in giro a prendere... Legnetti, rocce... Cos'è quello, si è mosso! Un uccellino! Mettete! Ma io sto agghiacciando, credo. Ehm, probabilmente anch'io. Sono bagnato, sono bagnato il freddo, freddo. E se si è buttato in acqua... Amici, facciamo un falò? C'è un vento... Madonna. Madonna. Che dico? Falò, Marco, cosa ti sei perso negli ultimi mesi? No, 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 facciamo un altro, perché quello lì non c'è più. Eh, lo so. Eh, dobbiamo grablo qua, eh. Le faccio piccolo, dai, le faccio piccolo. Sì, l'importante che le fai... Che schifo piccolo, eh. Capito, Morelli, eh. Non metterlo nell'acqua. Ma sì, ma, Moro, tanto basta che non la notte, poi... Com'è nell'acqua, com'è nell'acqua. Eh, non lo so. No, qui non dovrebbe essere nell'acqua. Cos'è? Accendo io. Sono acceso. Vai. Metto un po' di foglie. Quindi adesso come si mette la Karen sul fuoco? Prendi l'iguana e lo metti sopra. Come lo metto sopra? Eh, dovresti vedere nell'inventare. E poi devi prendere a quando è cotta. Occhio, non bruciarle. Dai, mi paggia. Intanto me la rischio, provo a tagliare un po' di... Come faccio a capire se... Un po' di lei. Ho bisogno stupido io. Facciamo un cellino davanti e invece di colpirlo dall'alto, ho capito dal basso e non ho riuscito a colpirlo. Come faccio a capire la carne? Stronzo. Una piuma, una piuma! Ahia. Ma deficiente, Dieter! Ahia. Vai in acqua! Mark, ma Dieter l'ha preso a fuoco, grettino! Ok, prendo. Io sto portando altre l'alena, mangio. Qua mi faccio una... No, le foglie, mi serve la carne. Tieni per un po' eschi. L'ho messo anche la carne, mangiatela. L'ho preso, io l'ho mangiato. Per bere invece? Eh, devi fare cose con l'acqua. Ho metto una bottiglietta d'acqua voi, per acaso. Quanto carne avete messo, deficiente? Che cosa stavo? Proprio con l'acqua non le voglio fare. Quanto carne avete messo, come se non si buccia voi? Porto altra legna qui alla zacca. A te. Ho dell'alcoli. Venite a mangiare, però. Eh, che si buccia la carne se no. Arriva, arriva. Veloci, veloci. Io ho già mangiato. Come si fa, eh? Mangia, mangia. C'è scritto, ma ti ho premuto io. Sì, tieni premuto. Che si buccia, poi. Vabbè, io vado dopo. Ok, sono full cibo. Vado tutto. Vado a prendere un po' di legno. Vado a prendere un po' di legno. Vado a prendere un po' di legno anch'io. Ah, c'è il tipo, Marco! È qua da me. Chezza! Cacchio, il tipo. È andato. Devi stare tranquillo, devi stare. Al tuo posto, devi stare. Non ho ucciso l'uccello. Come? E niente, non si uccide l'uccello. Eh, amici, io si uccide comunque. È bevitina gassosa. Io ho dell'alcol. Cupido. Non hai? Ti hai... Però è vero. Sidera, però. Ah, c'è stile o ce l'ho per delle cose? Ah, che paura, Collum! Sono due, sono due! Ma dove sei? Guarda, come si fa? Non so, sono posto, sono posto. Guarda, eh. Mi prende lì in secchiello. Ho capito! Ce l'ho! Jezzar! Eh, sto arrivando. Mi sto tenendo lontani con il fuoco. Sì, vorrei lì. E' trovi, siete. Guarda che so male. Ho detto che c'è l'olio, ho detto. Ah. Dai, abbiamo la colpita. Imbarazzo. Che urli fa lei? Vabbè, qualcuno vuole dei da bere? Io. Aiuto, aspetta, aspetta. Sono in fin di vita. Ok. Mi accosto. Eh, guarda, Teo. Eh, prendo un po' di legna, vabbè. Sono in fin di vita. Marco, non hai delle cose per curarti. Ha cantato zaino. Ma ancora? Ce l'ho. Hai finito, già? No, perché probabilmente non li ho esplorato. Eh, non hai esplorato l'aereo, Teo. Eh, cosa ho detto prima? Cosa ho detto prima? Eh, i valigi, ma non c'entrava i valigi. Allora sull'aereo. Allora sull'aereo ho preso tutto. Eh, no, erano là. Per forza. Dentro dei ruoli strai. Eh, l'ho già usato uno. Stanno attaccando. Due, sono in due. Sono caduto per terra. Allora, vabbè, allora io vado spagato il culo, Marco. Che salto che ha fatto? Dove, dove sono? Scusa a me. Ah, è qua. Ho preso un dente. Potete tirarmi su o devo riavviare? Eh, sì, ti tiro su, ti tiro. Non ne fa niente, ma se mi respawni comunque. Eh, ma se respawno lì in fondo o anche no? Prende i denti. No, no, qui ci c'è il culo, c'è uno. Cade! Ma guarda, questo nudo ci guarda. Ma come ti guarda? Ma canzone. Ma canzone? Ti tiro un tronco adesso al nudo. Arrivo, eh. Ok, per terra. A te, sto nudo. Adesso lo spezzetto e gli mangio le gambe, guarda. Sono buone, si manano le gambe buone. Belle cotte. Che sapore. Perché c'ho delle rocce qua sopra il suo scarretto? E ci servono delle corde. Come le prendiamo le corde? C'è che si creano. Fammi constatare. Ho una testa, la cucino? Allora, come si crea una corda? Ho messo una testa a cucinare, amici. E' un po'. Vuole fare un bel morso? Sì, ci metto... Trappolato molto posso fare. Metto questo. E dove c'è troppo per animali anche? Farò forse un po' troppo, sai? Forse ha preso un po' troppo bene. Viste che guida la creazione? Guida su dalla natura? No. Vabbè il mio panino di testa? Posso mettere delle note anche? Il mio panino di tre zeguè. E metto una nota. La carnomano è prelibata, ragazzi. Non posso scrivere. Eh, si è spento tutto? Eh, si, si è spento. Ma io lo vedo. Si è spaccato. Eh, si. Deve essere finito. No, aspetta, non è big. Allora, sicuramente le corte si fanno, secondo me. No? Sono un po' troppe. Adesso prendo il carretto o vado a prendere la legna? Perché mi avete caccato il cazzo? È probabile, siamo a 5 di corte questa. Lo proviamo? Dice combina. Ah, le ossa ci sono. Quando è che giorno voglio prendere la legna? Ah, infatti ho fatto un accordo, ok. Con 5 di stoffa. Edoardo Stoffa, mi pare, si chiama. Esattamente, Marco. Ok, ho fatto una corda. Ne mancano altri. Amici, provo a tornare all'aereo. 4. Vai, arrivo anch'io. Ma assoluto io. Ho trovato una torcia. Ho una torcia, faccio. Come si fa una torcia? Con il bastone? Il questo e l'alcol. No? Che lo sta chiedendo, scusatemi. Io. Sto parlando con le sue solite 7 personalità. Con voi sto chiedendo, sono deficienti. Come si fa la torcia, lo ricordate? Che cazzo è sotto, lo vedo canti. C'è nel libro di... Di mannivel. Adesso quando qua... Questo libro, secondo me, è inutile comunque. Non c'è scritto, non è vero, Marco. Ah, solo le stoffa. Ho capito come fare. Mi ha detto di fare... Ho sbagliato. No, sì. Mi ha detto che devo fare così. Sì, ma se arriviamo nelle tende e dormiamo... Ma era un'ottima idea questa, Marco. Ormai... Sono qua di fianco, Liezar. Ah, guarda. Sono qua io. Buono, Liezar sono là. Marco è là. E se... Marco è da solissimo. Fai... Vabbè, posso anche salvare. Portiamo i tronchi, aspetta. Posso fare C e faccio il salvatario. Aspetta, Marco, dormo con te. Poi c'è Z e... E te dormire? È uno su quattro, dice. Uno su quattro ha voluto dormire. Venite qua. Ho salvato Marco. Aspetta che vado a mettere la legna lì vicino. Salvate tutti quanti. Uno su quattro. Dobbiamo in safety, Marco? Sì, tutti dentro. Arrivo. Pezzi di merda. Fate sia C e vi fate il salvataggio. Sia Z. Ok, due di quattro. Io vedo Esprit e Mark che fanno robe. Esprit, vieni qua. Che è a tra l'altro lato. Non ho già fatto io. No, di rinfai. Devi stare qua. Ma sono qua. Adesso tre su quattro su quattro. Quattro su quattro. Ma scusa, è accanto a te. Mezzo fermo immobile. Eh, ma devi guardare. Eh, non è servito molto. È successo un rumore, eh? Rifacciamolo, dai. Ho già svegliato qualcosa. Riproviamo. Ok. E da che la cimento adesso? Oh, ok. Ah, guarda che bello. Vede il sole. Fammi spagare un po' di legno. Comunque, qualcuno lo ci ha svegliato con uno scorreggione. Io l'ho sentito, eh. Come si toglie l'accellino, amici? Non lo ricordo male. L. L. Ok. Ti saranno le corde. Eh, le corde con le stoffe, dietro. C'è quei di stoffe. Amici, torno all'aereo. Qualcuno vuole venire con me che mi copra un attimo. Marco, io sto ravanando. Però arrivo volentieri. Allora vado. Aspetta però, eh. Fammi bere un flusso di coca. Dai, ma c'è un tronco. Ah, c'è un tronco, c'è un tronco, c'è un tronco, ce l'ho lì azzaro. Due, due le mancano. Ah, due per la casa? Sono due per la casa? Le porto altre per sicurezza. Però servono sempre le quattro corde. No, tre corde. C'è ne uno qua, le facciamo le corde. Ah, ne uno qua. Devo anche una bevata. Ma ce l'ho bisogno di buttargli a terra, non potevi mettere le cartine, scusa. Sbagliato. Un po' di ordine qui, per cortesia, eh. È un coniglio. Siamo a fare gli stronzi. Oh. Eh no, è troppo veloce. Faccio così? Ah, niente, sprufondo. No, non riesco a fare una sola, aiuto. Morelli. Sono dentro la casa. Sono bene. E ciò, se li mancano le corde. Allora, cosa serve per fare le corde? Allora, avete le stoffa a voi. Serve stoffa. Quindi combina, combina. Io ci ci stoffa, voi quant'avete? Eh, chiaramente sono morto. Guarda te. Quanto stoffa? Dove sei andato Marco? Da solo? Perché sei sempre lenta inizio? Io t'ho chiamato sei volte, Esprit. Eh, ma devo finire la casa, lì. Eh, certo. Aspetta, andiamo a salvare Marco. Ok, quante corde ho fatto? Una. Manca una, allora. E la stoffa dove la prendo? È il valigio. Non ho preso un pochino. Solo lì. Allora, devo scappare, vieni qua. Come faccio a usciutare Marco? Eccolo qua. C'è uno almeno deve venire con me. Quindi prendo le robe. Eh sì, di uovo. Ma veniamo tutti. Non è che mi fa respawnare con tutta la vita. Mi dà comunque poca vita. Veniamo tutti. E' un altro. Almeno vediamo se c'è qualcosa. Allora, di qua poi dobbiamo andare dall'altra parte. Mi ricordo. Rompere anche una cosa qua. Mi servono un po' di carne umana. Sono dei soldi qua. Li prendo, li facciamo usare per il fuoco. Ma io voglio comprare la borsetta nuova. Dov'è il coppio? Alla sotto all'isola. La stoffa, eccola qua. Stavolta no, Morelli. Non puoi farlo. Mi dispiace. Io ho preso le gambe. Ok. Come? Eh, le gambe del tito è ucciso. Ah, ecco. Che dispiacere. Questa è la stoffa. Qua, lì? Da qua sopra. Ho trovato il nostro isolante. Ho trovato. Pieno. Sì, c'è un sacco sulla spiaggia. Ma andiamo sulla spiaggia, infatti. Ma andiamo di là. Vabbè, ma io perché non le ho ancora presi tutti lì al... Vabbè, tanto lei era qua. Corrispondate le robe dentro la valigia? No. Non penso. No, se è chiusa, se... C'è roba. C'è un botto di valigie qua. La pallina da tennis. La pallina da tennis cosa ci faccio? Scusate, lo so, Marco. Ti diverti. Bancata. Ma c'è un cervo. Ok, guarda quanta so. Ok, ho preso un po' di stoffa. Un toigo. Cacchio. Eh? Un toigo? Vieni qua, stupido. Vabbè, c'è un cervo. Che apocalittura. Non neanche un toigo. Ok. Ma cazzo, ho avuto un colpo. Alla pelle. È mia. Ma il trofeo, c'è? Ho trovato delle piglie, ho trovato... Ho ucciso. Prendi un po' di foglie. Prendi la carne. L'ho deflorato. I funghi, me li mangio. Non mangiarli. Cacchio, mi ha fatto malissimo. Efficiente. Era una manita muscaria, purtroppo. Sono degli altri, li mangio. No, basta. Pieno. Quella è una donna. Perché non riesco a prendere le foglie? Un topolino, uno scogliaccio. C'è, ce n'ho 40. Oh, un cerbiatto. Vieni qua, bastardo. Vuoi fare arro, man? Si può fare arro, eh? Si può fare arro, certo. Sull'aereo ci si può tornare, comunque, adesso. La borsa di Louis Vuitton. Nessun viene con me a esplorare, è vero. Chiara, è che... Mi sono cambiato, ho messo la camicia di Marco, ho messo. Come? Che voglio. E mi ha fatto. E io ho trovato la camicia di Louis Vuitton qua. Senta che c'è una roba in qui. Aspetta, sto arrivando, eh. E guardate bene dentro gli stipetti qua, che è pieno di roba. Guarda Marco, ho la tua camicia. Vuoi vedere? Che figo. Sei sempre cinese. Vuoi vedere? È vero, è come c'è un arco. Guardate qua la raglia nea, che casino. Allora, un popolino a mio padre compro. Un popolino a mio padre compro. Vuoi vedere? Ma fai cagare tu, rivestiti il bambino. Non ho più vestito. Ho una maglia, vedete un po', cos'ho? Dove sei? Come la vedo, tra l'altro, la maglia? Tu dove sei? No, te la metti addosso quando la premi. Esatto. Ah, no, era un codiglio. Basta Stronzo Stronzo Un bel po' di stoffa ora Dei funghi li mangio A me sono buoni morelli Io ho preso quelle fallate Amice ho un tronco Amice ho un cacchio Ma qui ci sono delle stronze Ho mangiato dei funghi e mi è partita la sab Che paura Granducasid grazie mille Grazie Granducasid Dopo ringraziamo tutti Che siamo un po' presi Con calma eh Allora amici come facciamo? Anche io esso Si torniamo e chiediamo una palligia Ma la linea L'energia quella a sinistra che cos'è? C'è la vita La rossa è veramente poca E' veramente poca amici Concesso Marco? Eh ne ho poca veramente che mi diranno un pugno e sono a terra di nuovo Eh aspetta amici Marco Vieni al campo base Anche io ho la telemedicina E io ne avevo una e adesso ho anche esplorato tutto Non c'è niente Poi vado a pescare E io mando delle palligie qui E' tutta a stoffa qua a me amor Ti ti ri ti 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 ri Ti ti ri Ti ti ri Se magna Ounque se distruggete le Pali con le teste vi da roba eh Si vi da la stoffa Ho sentito Il nostro campo eh Ci ciullano il cibo Il fatto è che poi i totemili dobbiamo fare noi amici Stronzo I totemili li dobbiamo rifare noi per tenerli lontani poi Eh si Ah dopo capiamo la barca Che se ne frega Ok ho finito Ho finito Bellissima Entrano in casa E' piccola Ma è una merda A cagare Vabbè andiamo nel bosco a fare la nave La nave nel bosco? Come? Eh si Amici ho un pezzo di legno C'è un tizio lì nell'acqua Oh che paura Ho un pezzo di legno dove me lo infilo Sono durissimo io per guidare sta barca Stai arrivando un signore Marco stai arrivando da noi? C'ho fame però Corri Marco Ma cosa è quell'egri? Ma è andato dentro l'acqua Ma che cazzo Ma stai fermo Brutto imbecille Buon legge la barca Ce ne andiamo Marco Aspetta Avvicinala Per portare sul coso lì Vediamo se posso portare sul coso lì Dal molo bisogna farlo Aspetta Così? Forse dal molo Puoi avvicinare di più? No Ci sono le casse amici Per mettere la roba dentro Che posso girarmi un meglio ora Niente Purtroppo è andata così Lo lascio affondare Finca da barca Al posto cai Sti due me li tengo in barca Ma che inefficiente quello Sono caduti sotto E niente Sopra addirittura Ah non hai colpi di cà Etetet Etetet Etetiri 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 Vediamo? Ah Ho seguito colpi di vitra eh Andatele accettate Sei scemo? Ma non riesco a spostarmi Che mi... Eh spetti direi che è sufficiente qui eh Dimmi che sai come si frena Andiamo da quanto posto del lago Eh sprit Eh sprit La gravità Mi... Mi preme verso di là Eh sprit Allora da quanto posto del lago vuol andare No Aspetta Se no la gravità vi preme Allora se non facciamo una base che vai in giro Aspetta Essere qui in mezzo Mark è completamente inutile No essere qui in mezzo ti protegge da tutto E cosa facciamo? Ma che cazzo dici? Ti mettiamo qualche dura per andare ovunque Ma fa cagare sta zattra Ma andiamo nella foresta per cortesia Andiamo nella foresta per cortesia C'è una scarsa Allora c'è una scarpa lì No vedi che c'è una casa forme di scarpa Tu due Tre Mi tuffo Guarda è Tokyo Drift Cazzo... Tan 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 Tana, tchiaia Eh, Spirit, lo sai come finisce, no? Tanto sta canzone, quindi Ma i pesci, come succede? Ah, devo fare l'arma per i pesci Aspetta Ma siamo arrivati? Si Ma sono già sulla terra Scusa, eh... Spirit merda Ma dai Allora, la facciamo qui la casa, qua sotta Ma le valigie sott'acqua come le tppori scusa Come le rompi, Moro Come vi state? Ostia, che fatica, beh... Che fatica Si, come le rompi quelle sott'acqua, Moro Dovissimo, tu learned un campione Ma c'è un abdigatore gigante! Dov'è? Davanti a me! Non lo vedo! E come non lo vedi? Ma è morto! E che cazzo! Picchialo! Uccidiamolo! Spaccati la faccia! Attacco dall'alto! Mi sono ucciso! Mi potete tirare su? Ma com'è possibile? Sono su! Sono sul cocco! È partito! Eccomi! Mi ha murato tantissimo! Mi ha tirato! Eh vado vado! Tranquillo Moro ci sono io che ti prendo! Ti stranco la pelle! E anche la carne! E la testa pure! Dove è andato? Ho testa! Ma lei è andato nell'altro mondo Marco! L'ho preso io Marco! Ho preso io! La facciamo qui la carota? Ah io posso fare... domanda! Io posso fare un follow in una casa di legno sull'acqua? Coluce a tutto secondo me! Vi ci provo! Facciamo una borsa a frigo? Beh giusto con la pelle di cocotril! Aspetta costruiamo! Ah non la visione! Ah non posso neanche farla! Perfetto! Scusa facciamola qui la casa! Vado a sciacquarmi per disinfettarmi un attimo eh! Per me ci sta! Mi scusi lei eh! Ho ucciso un gabbiano intanto! Per voi quanti pezzi ho di carne di cocotrillo! Poi la testa di un gabbiano! No mi è caduta in acqua! Dai Morelli! Tu l'hai persa! Lì! L'ho vista! L'ho presa! Credo! Ma avete fatto il pluffone! L'ho presa! Dove la vedo? Ma forse la testa di un gabbiano piccola era! Il chiopiadi! Ma le gabbiano servono a qualcosa? E le piume si hanno anche! Le carne! Eh? Le valigie le possiamo portare a riva? Aspetta! Morelli! Ma sono già aperte però eh! Ah le spingo! Morelli? Eh! Le spingo! Guarda! Non la guardo! Ah! È partita! Nooo! È partita la testa! Sposto anche le altre di valigie! Ah no! Alcune sono già aperte! Ma come siete questa casa di merda? Scusa! Ho un nastro isolante ancora! Devi aggobbarti eh! Ma c'è qualcosa qua dentro! Una lancia! Buona! Quella lì ci peschi! È un secchio di vernice! Ma sono rosso! Come? Ma dai! Te lo sei bevuto! Scusami! Espi! Hai sbagliato! Ho le faccia rosse Morelli! Eh non devi metterci le mani dentro! Guarda! Devi prenderlo dalla apposita maniglia! Guarda che la vernice è tossica eh! Guarda adesso di me! Ma non guardo verso di te! Dove il ragazzo sei? Ah qui! Ma che schifo! Mattie! Mattie! È Flaminé! Scusa di essere rosso! Perché mi sono ricordato di Mattie Flaminé? Non è neanche così famoso come calciatore! Poi era Mattie! Ehm! Ci conviene costruire la casa prima che faccia notte! Ma andiamo a casa! Eh qui è un problema però! Andiamo a casa sul... Sì ma non puoi salvare! Devi stare la notte fermo! Ma fa schifo con la casa! Sono dei Ribes buonissimi qua! Ma vieni a costruire! Metteteli nel culo! Esprit! Per cortesia! Ehi! Ma cos'è sto posto di Gantesco? Ma cos'è sto posto di Gantesco? Eh... Lo facciamo bello! È un alligatore amici! Uccidilo! Ma 92 tronchi giù! È difficile! Eh vabbè ma andiamo in quattro ce lo facciamo! Mi ha preso amici! Ma venite a fareste tronchi! Marco dove sei? Cos'è che ti ha preso Marco? Mi ha preso Marco? L'alligatore! Perché Marco è venuto a morire già la quarta volta! Eh ma l'alligatore! Eh ma l'abbiamo esattato fuori noi! Solo tu! Eh ma cosa che posso dire? A parte che io ho ancora 3 di vita comunque! Da sempre! Quindi continuerò a morire! L'ha ritirata su tutta la vita quando... Ah no no no! Mai nella vita! E devo costruire la... Eh devo facciare la carne! Guarda! C'ho un HP! Marco! E me! Aspetta! No! Ho sbagliato! Dammi una piccola medicina! A posto! L'abbiamo fatto il Faleo! Ah che imbarazzo! Come la c'è a casa! Ho sbagliato Marco! Fai un secondo! Ok! Ecco Marco! Tieni! Ah grazie! Ah ma posso prendere tutte e quattro le trovo! Ah no! Prendi qua le cose Marco! Prendi l'armatura del tuo! Ah adesso sono bello full! Prendi la pelle di codrillo Marco! Mettila come armatura! Sbagliato! Ah è tutto crudo adesso! Guarda che imbarazzo! Prendo anche la carne! Bene! Prima era senza pelle! Poi era con la pelle! Ma cuciniamo la testa? Ma così la casa così in mezzo! Ma che è il piro! Ops! Pesa! Mi sa che non si può coccere su quello grosso! Eh no! Faccio io! Faccio io la legna! Facciamone quello più piccolo! Guarda! Guarda una mano io! Guarda come sto lavoro! Infatti guarda lì! Si usano per... Si usano per... Per dare fuoco! Per fare il fuoco al ricorso! Vabbè ci stavano due legnette! Sto arrivando eh! Guarda come ti ho giudato! Guarda come ti ho giudato! Voglio rimorciare tutto quello... La mini è il giocatore più ricco! Ma faceva cacare! Aspetta! Ma se bruciamo... Possiamo bruciare i cadavri gli uomini per fare le osse! Eh si! Prima ne ho prese due io! Così! L'aveva fatto Moro per scherzo e mi ha dato due osse! Ho scorto tutto sì! Da me c'è una piccola... Ma una tartaruga! Aspetta! Ok ho fatto solo! Carichissimo adesso! Non si uccide sta tartaruga! Bastarda! È colpissima forte! Cannibal Holocaust! Ma come si crafta la roba che ho nell'inventario? Ma chi c'è? Ah l'ho colpita in testa adesso! Si è messa dentro il guscio! Ma come? Eh beh! Ho otto un po' di cose qua! Dai dai! Riciccia fuori tartaruga delle palle! E che mangiare? Sono fortissimo! Io devo mangiare per forza! Se lo vuoi! Anche io! Ok ho l'alcoranza! Non esce fuori! No mancano due bastoncini! Eccoli qua! Che hai avuto un po' di alberi eh! A me si faceva a cuocere la carne poi! Cosa è che farò? È qua! Ma che fuori il merri fa! Sono bello bel bene fai! Guardate questo è un sogno che fa il falo! Tutto giù gli alberi! Oh carne di tartaruga! Oh carne di tartaruga! Metti qua! Massimo quattro pezzi di carne! Mi sono un po' allestrato! E' qui! Ah! Metto un po' di anch'io! Metto un po' di... Un cellulo! Adesso lo guardo qui! Ah! Cosa? Cos'è? Ma che cazzo? Ma dai! E' tra l'inquietante la... Non immagino che fa! Eeeeeeeh! 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 Eheheheh! E' cacca! Sono un po' crudelle! La muttonia! No ma dai! E tu le hai mangiato però! Una! Quante le avevo mangiato? Le prendevo una alla volta! Le ho visto! Le mangio una anche io! Ma qual'hai mia carne? Bastardo! Metto un'altra! Io c'ho anche carne di tartaruga! Mi avevo mangiato la carne di cocorillo! E' un po' di soldi! Ma dai! Non si può fare illegale! Eheheheh! Ma tanto ho già ucciso una tartaruga! E' un sacco di soldi così! Arriviamo alla maturità e ci portano a casa poi! Arriviamo alla maturità allora dai! E' un po' di funzione! Dai veloce pure le veloce che la notte fa poco! Quanti legni manca? E' 60! E' voi non lavorate! Qua solo io devo fare le cose! E' io sto mangiando! Io vado giù 4 alberi Marco! Ok adesso sono full! Non ho anche ricoperto di pelle di sangue! Tin tin tin! C'è la mia barca! Qua cosa c'è la devo fare con voi? Scusa! Ma tu vai sulla barca! Ma stavo qua! Sono lato al cazzo di barca! Tu rompi i balle! Ooooooh! Ma c'è un trucco dentro di un gran sasso! Il gran sasso dentro di un trucco! Perché tagli il mio albero? Scusa! E' quello che facciamo prima! Voglio fare questo qua! Che lungo questo! Aspetta ma io posso fare qua! Non c'è un... modo di fare un letto! O un sacco a pelo! Anziché guarda alimentare! Aiutaci! Ma aspetta come sono cose utili magari! Ho capito io! Teleferica! Io comunque volevo fare la cosa sull'alberone! Alberone! Lo prendo due! Guarda che lavori di fino che sto facendo! Guarda che lavori di fino che sto facendo! Voglio portarmi da parete! Che posso fare? Testa trofeo! Ah posso fare un trofeo con un bastoncino a testa Morelli! Con solo un bastoncino! Guardi tartanughe? Eh si! Una testa per uccelli ma è bellissima! Sono che l'hai già passato al letto! In arredi c'è un letto piccolo! Non ho visto! Un deficiente! Arredi uno! Come si fa? Non c'è un letto! È una poltrona! Alla qua! Ah letto piccolo! Quattro di pelle! Una corda e bastoncini! Allora mi vado sulla barca e io me ne vado allora! Io sento dei maledetti buiti comunque! Eh ma non manca tanto! Posso fare sulla barca questo lettino? Posso farlo! Adesso poi vi ringraziamo tutti belli eh! Finiamo la cassa! Cazzo! Sono delle valigie qui! Non so se l'avete presa! Non so se l'avete presa! Non ho cambiato la maglia ma adesso faccio caccare! Come è calato veloce! Ne avete di legna o ne taglio un altro po'? Eh no devi tagliarne un bel po' ancora! C'è scritto sotto a sinistra! Ne siamo una 35! Eh no ma io non sono lì eh! Dio che stanchetti! Eh ma è uguale! Ti da comunque! Sì! Eh! 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 La fai cacare? Non ce l'ho più stabile! Ha fatto un po' di caccare! Dai! Dai che ce la si fa! Avrò 90 per la casa! 89! dai dai ci mettiamo... bene dai... per 99... ma poi farlo lo facciare nella casa di legno appiccia tutto... ma no ma non c'è il vaporio... scusi... è la fine... ma se ci fa dentro casa non è che brucia la casa è fortissima... ma che fastidio non lo facciamo... dai manca poco... arrivo con noi... dovremmo farci la nostra carriolina a testa ma no ma in realtà bastano ancora due alberi a testa... più o meno... oh quella è una... niente... bicchiala... bicchiala... no... staccando il sole... aiuto a portare i trovai... prendi prendi... tua crudeltà... guarda questo è un posto del cacchio... non si sa bene niente... ma avessi detto un posto decente... io volevo farlo su degli alberi... che cazzo c'è qui? che cazzo c'è che c'è stato? che cacchio di diavolo è stato? ho detto che cacchio c'è qui? non ci sono gli alberi... particolarmente stanco... dai ne mancherò solo 3... c'è un coniglio... ammazzo la penna di pelle! eh non ce la faccio sono stanco... dall'altra parte della riva la carriolina... è messa in acqua e le hai messa... ho dovuto abbandonare sti stronzi... cade... cadeee... ma chi è che sta costruendo altro laggiù? nessuno... ah quello è mio... vedo un altro martelletto... uno è sulla barca e su due detto... amici quanta legna manca? ahhh 7... arrivo eh... eh che c'ho un po' di problemi... no meno 5... due ce ne ho io... due ce ne ho poi io... ok ne manca uno allora... mancano 3... non vedo più niente... ma ne basta uno Marco! allora arrivo... oh sto arrivando... è calato brutto... manca uno... perché se non mi amenano prima... al fuoco... ricorri Marco! fuoco non c'è più... lo rifaccio... e la qua è piccolino... sono stanchisi... accendilo... ma non c'è la porta... che cosa vedo io... Marco si fai il filoce che non c'è la porta... non va giù l'albero... non va giù l'albero... non va giù l'albero... va giù l'albero non va giù... quanto ci sta mettendo? non va giù... e gira intorno all'albero... devo girarmi leggermente a sinistra... gira tutto intorno all'albero... questo è accendilo per sempre... quello della Bic... ho sentito dei passi... io me la do a gambe... eccomi... Marco... Marco... metti il stronco... eccomi... eccola qua... metterlo in casa... dormi dormi... non si può dormire ancora... e non si può dormire perchè abbiamo passato... troppo tempo... l'ultimo tempo avendo dormito... ma la finestra era una porta... però ci melano da qua... scusa... ho salvato tanto io... non ci passiamo... aspetta chiedo fuoco a questo tronco... ah ma... ah morelli... può dormire? no... non ci può dormire... guarda... ma non è un po' piccola per noi... non siedi qua... che cazzo fai lì? ma scendi giù... ma siete gemelli tu Aglierdor? eh si... come te va... e siamo gemelli cinesi? eh... mi rivo un tronco verso la barca... io sono più sicuro... fino a gemelli... ma colpirla... ma si apre male la porta comunque... non si può dormire... io voglio un lettino... facciamo un lettino dai... ma perché non si può dormire? non si può dormire perchè devi aspettare... devi ascendere dal letto... devi aspettare... ma non puoi dormire... eh ma non sta salendo... non puoi dormire... amici ho sette spuntini... non sarà il timer però... come hai sette spuntini? dammene uno... come si fa a dartelo? beh... è lì con la notte credo... senza mandarlo? eh no... perché se faccio... e non posso? ah... ah... si sta passando il tempo adesso... beh... vedi... grazie... ma che lavoro... grazie a me... mangio... mangio... sto morendo... sto morendo... eh... se tu stai là da solo... eh... la barca non ha funzionato... ora... come son vestito? hai un maglione... ah... non vedo... hai un maglione a felpa... hai un maglione a felpa... e pantaloni rossi... ah... come è? sono hipster... hai anche il... il cappuccio... ah... 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 aspetta... 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 hai visto? io ho visto muovere lì eh... c'è un gabbiano Marco... mi scusi... no no... ho visto muovere là in fondo... aspetta... 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 dentro di te... c'è uno per la torcia... non stavo scherzando... non ti azzardare... ma io voglio quello con la torcia... è efficiente... ragazzi venite qua... aspetta... ma dov'è quello con la torcia? è qua ragazzi... guarda... guardate... l'avete visto? ha delle braccia con... ha fatto malissimo... sto morendo io... non in acqua... non in acqua... che non si vede niente... portatelo qui... guarda che sto affogando... pirla... vieni qua... ma affogato... ma dai... ti spacco... ti spacco tutti i denti... ti spacco... tutti i denti... ti spacco... Morelli... non c'è più... questo... me lo porto via io... dov'è il pirletta qui? mazza... ho sentito... grida... strane... è affogato... è un altro... io ho ancia fortissima comunque... dov'è? è lì... a sparco... ma la voce è da donna... ma non è una donna... ma si è una donna... ha le tette... è vero... è perché era pelata... un salto... Gucodrillo... dov'è i cocodrillo? uccidiamolo! qui... ... va a invece di scappare... efficiente... uccidiamolo... unexpected... morto...? è morto... fatemelo scogliare... in tutti scogliare! hai un pezza testone... ah un altro... ma un altro... ma quanti scusa? me ne vado... hai ven matters 급età... Corro! Abbiamo sporcato di vernice! Volevo dirametti? Volevo! Eh? Ma è durissimo! Ma è un po' fermo, lo vedo in giro fermo! Aspetta, penso io che si fa una cosa bellissima eh! Adesso muore lì, per scacciare i quadrilli no? Adesso aspetta che sono sotto acqua e ho aperto la pelle! Aspetta, per scacciare tutti i quadrilli che... insomma... Devono capire che noi siamo i campioni, qua dentro... Metto questo... Con l'armatura quasi completa! Metto... Come si fa l'armatura? Mettiti la pelle del cocodrillo! Che succede? Questo... Con l'inventario ti metti la pelle! E poi prendo... dove è il trofeo? Qua! Pelle di lucello, la Marco! Te lo metto! Ua! Che schiaceremo! Ecco fatto! Che dici Marco? Hm? Vieni qua in casa! Anche che carino! Hai messo il porticciolo? Ma è freddo! Aspetta che se mi sto cagando addosso! Il fuoco! Bellino quello! Vedi vedi! Tu hai visto il mio decorazione? No! Tu hai visto la mia arma? Tu hai visto il mio sedere? Tu hai visto il tuo arma? Aspetta fai mettere la carne! Che è il citopolo questo qua! Esatto! Ti mangi la mano di uno! Scusa! Chissà cosa ci ha fatto con quella mano! Ma è un pezzo di cocodrillo quello! Ma era una mano! Aspetta! Ci sono due coccodrilli! Un rango tondo! Due piccoli serpenti! Un'anquila! Un'anquila! Un'anale! Il sesso il topo! Le fanen! Non manca più nessuno! Solo non si vedono! I miei due nessuno! Uno! Bravo Morelli! Mi piace quando siamo messi in tornia! Visto che bello questo cocodrillo! Ma che cacchia che mi incastra questo cocodrillo! Ma è bello! Di qualcuno la carne è solo cosa! Perché l'ho mangiata io! E questo cocodrillo così! Hai visto pure! Hai visto fuori! Saliamo? Il trofeo! Puoi mettere quello che vuoi! Amici mi sto appendendo! Come? Ci sono due cocodrilli! Dov'è Mac? Si sono in alto! Si può costruire un segnale SOS con i sassi! E' tanto che ti soccorre! 34 sassi! Mettiamolo qua! Mettiamolo qua! E' 34 sassi! E' 34 sassi! E' 34 sassi! Ma ce ne sono in giro! Ah aspetta! Fammi lo creare a me! Ehm! Ho sbagliato! Cosa ho fatto? Un fuoco! Facciamolo la prossima volta! Beh lo metto però! Ma il sasso no! Lo facciano subito che ci vuole un minuto! Per gli sassi in giro! Ma non so se è pronta la situazione! Ah! Dove lo metto? Mettilo qua davanti! Marco sta bruciando! Ah ho preso fuoco! Aiuto! Ma guarda che pirla! Ah! Qua? Spegni spegni! Mettilo qua! Ma mettilo! Come so se è pronta la carne! Ok! Sì! Ma ci sono già metà siamo! Ehm! La metà ne abbiamo! Ce l'ho anch'io! Ce l'ho anch'io! Ehi Marco! E' che qua in giro è pieno di sassi! Ma no è finito! Non è finito Marco! Ma no è con la C si fa! Chi è che ha tirato un sasso Marco? Finito! No! Aia! Ma chi è che l'ha rotto? Pirla! Maaa non c'è più! Ma qualcuno l'ha rotto! Ma hai spaccato un sasso? Ma questo è pirla! Ma scusa! E' fortissimo il sasso! Ma ti spacco la faccia drogato! Oh! Oh si può dormire! Lo becco piano lo becco! Ho mancato! Si può dormi! Ho preso! Con il sasso! Salvate poi! Che segnale è se lo sassi! Andiamo a dormire! Aspetta eh! Allora salvo! E' sottile! E' salvo! Fatemi accendere questo falò! Ho salvo del grande fratello! Stai arrivando? La zeta! Sono pronto! Morelli manchi te! E' arrivo! Sto arrivando! Anche due cazzo! Anche manca! Uno di quattro! Due di quattro! Ah! Ok! Vedi quello è questo giorno! Guarda che bello! Ah po! Allora! E' stato un primo giorno di avventura! Molto interessante! Eh si! Abbiamo ucciso mostri! E' fatto il campurase! Con il trombone! Penso che... Ringrazi tu Moro? No! Le ringrazio io allora! Ah ringrazio! Adesso ti ricordi quali sì e quali no? Si! Tutti quanti ringrazio! Al vento! Roberto Calvo! Schatta! Jack the Ripper! Imperatore Cinico! Wunder Luke! Luke! No! Gregorio LBJ! Pedro Petrelli! Keckmart! Claro! Artorias! Ceduzzo! Io guardo Twitch! 200 bits! Noe! Black Sheep! Granducasid! Yayaenne! Vergest! Kira! Electronics Breaker! E si e quanti! Oh! The Joker! Gerardo! De Paolo! De Ague! Uff! Una tartaruga! Grazie mille a tutti! Grazie Belli! Grazie mille di cuore per il supporto! E niente ci vediamo domani! Questa nuova serie! Esatto! Domani sera andiamo avanti! Adesso andremo avanti! Che di Simonelli va bene così! Molto bello! Molto bello Esprit! Grazie! Vi mandiamo dei gatto sul tubo adesso! E cosa gli scriviamo a un gatto sul tubo? Gli scrivete e... Guarda Omare quando è bello! Ispirata da Senninienda! Troppo lungo! Oh che palle Esprit! Per ogni cazzo di volta! Ripetegli quello! E impara a scrivere! Impara! Ripeti ma lì cosa devo scrivere! Ultima volta! Guarda Omare quando è bello! Ispirata da Senninienda! Mi piace! Perfetto! E niente! A domani mattina! Ciao Belli! Con... Con...